Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, oggi vi spiego dove trovare la seconda fiume di sangue molti si domandano ma come fai ad avere due fiume di sangue? è molto semplice, perché una volta ucciso il boss finale vi uscirà quel messaggio dicendo vuoi iniziare un altro viaggio oppure continuare ad esplorare in questo quindi quello che devi fare è una volta finito andare alla tavola rotonda avvicinarti alla tavola rotonda e poi se vuoi iniziare un altro viaggio lo inizi ecco adesso che mi riposo e vi faccio vedere come fare ecco a me in basso c'è scritto inizia il viaggio numero 3 basta se ne parla tra un paio di mesi quindi per voi invece inizia il viaggio numero 2 perché una volta iniziato il viaggio numero 2 dirigetevi di nuovo qua prendete la spada, cioè la katana e avete fatto, molto semplice avete due fiume di sangue non solo due fiume di sangue ma un'altra arma che avete preso già al viaggio numero 1 ad esempio la luna velata, lo spadone, la ligue antica due spade, ok? quindi ragazzi se il video vi è stato utilissimo iscrivetevi al canale attivate anche la campanellina lasciate anche like e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 ciao